Allenatore, ma qui con l'azionariato popolare non è che poi decide la cittadinanza, mette vecco sulle formazioni, sulle tattiche di gioco? Cosa ne pensa? Vorrebbe dire che la campagna di azionariato popolare ha funzionato molto bene. Lei quindi non teme lo scavalco del posto? Per il momento no. E' un'iniziativa comunque molto bella, giusto? E c'è fiducia comunque in questa città che ha sempre dato calore e ha seguito la pallavolo? Sì, a parte gli scherzi, pallavolo è una piazza molto importante del volley, nel senso che è una piazza storica perché credo che dopo Modena sia la squadra che ha più partecipazione al campionato di massima serie. Per cui è una piazza che ha fame di pallavolo e soprattutto ha conoscenza di pallavolo. Per cui queste iniziative benvengano per portare più attenzione, ulteriore più attenzione verso il nostro gruppo.